La partita è una partita abbastanza equilibrata, nel senso che comunque il primo tempo sono partiti meglio loro, poi siamo andati meglio noi, il secondo tempo è una partita abbastanza equilibrata, poi loro hanno fatto gol, poi chiaramente si è messo dentro l'arbitro, perché veramente non hanno l'intelligenza di capire che c'è delle società che spendono dei soldi, dei giocatori che sono sei mesi che lavorano per arrivare a giocare a certe partite, ci vuole ragionamento, forse non sapeva che era una partita importante ma che non pregiudicava niente né chi vinceva né chi perdeva e quindi bastava applicare l'intelligenza, però del resto gli intelligenti ne ho visti pochi, devo dire la verità, senza nevare al risultato del finale, che nessuno mette in dubbio il risultato del finale, metto in dubbio che non sono persone intelligenti purtroppo.